Sono arrivato lì con la delega della figlia e mi sono presentato alla porta, che era la porta chiusa, entravo dentro, il vicino ha detto no, 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 fermo, fermo, lei non può entrare. Come non posso entrare? È una riunione nella sala consigliare del comune di Subbiano sulle rette scolastiche dell'Istituto Palazzeschi, l'ultimo terreno di scontro tra l'ex sindaco Ilario Maggini, oggi consigliere di minoranza, e l'attuale primo cittadino del comune del Basso Casentino Antonio De Bari. Maggini, presente all'incontro come nonno e non come consigliere comunale, non è stato fatto entrare alla riunione perché la delega, firmata dalla figlia, impossibilitata ad essere presente, non è stata ritenuta valida. Ha preso la delega e l'ha portata al sindaco De Bari. Lui ha affermato che io non potevo partecipare perché io non c'ero, ero fuori dalla sala, aspettavo fuori. Lui è tornato vigile, ha detto no, no, te non puoi partecipare, devi andare via. Morale della favola, Maggini non ci ha pensato due volte e ha deciso di denunciare quanto è accaduto alle autorità competenti. Nella sala del consiglio, su un locale pubblico, il problema grosso è questo, che c'erano dei consiglieri alla riunione. Io come consigliere, se non mi voleva far passare come nonno, mi doveva far passare come consigliere. Invece non mi ha fatto passare. Lo denuncio per attività antipolitica, perché c'erano i consiglieri dentro e a me non mi ha fatto passare. Lo denuncio per abuso di potere, per abuso di atti d'ufficio. La riunione doveva servire a parlare delle rette scolastiche, sulle quali la minoranza ha già presentato un'interrogazione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale. Ora è arrivato il momento di diminuire i costi. Il comune, se vuol fare l'amministrazione, se vuol fare, chi vuol fare l'amministratore, deve trovare un sistema di diminuire le tasse.